Oggi ragazzi siamo qua con una sfida epica tra me e mio fratello Ciao ragazzi Eccolo appunto e oggi ragazzi come avete detto dal titolo andremo a sfidarci io e Lucas per andare a vincere il nuovo bundle di Joker ride bene chi ride ultimo Ovviamente vincerò io ragazzi come sempre E vabbè Lucas vabbè allora io ragazzi vi dico una cosa Fin da subito lasciate un bel mi piace perché oggi appunto andremo a sfidarci per vincere il nuovo bundle ride bene chi ride ultimo E tra l'altro ragazzi noi stiamo registrando un giorno prima dell'uscita di questo bundle Quindi noi ragazzi stiamo registrando ancora prima dell'uscita però diciamo che quando uscirà sulle nostre storie il vincitore appunto regalerà all'altro Pur il perdente comunque regalerà all'altro nelle storie di Instagram il bundle Quindi ragazzi comunque lo vedrete o a fine video comunque o appunto su Instagram Però c'è una regola ragazzi che chi appunto perde non potrà comprarsi il bundle ma lo dovrà per forza regalare Quindi chi appunto perderà non se lo potrà comprare ma solo e sostanzialmente regalare Quindi in caso che appunto io perda Lucas io appunto non potrò comprarmelo comunque con i miei soldi e nemmeno tu Però potremmo farcelo regalare quindi chi lo sa se perdiamo ragazzi in caso regalateci appunto il bundle E come sapete ragazzi non dimenticatevi di utilizzare il codice supportatore nel negozio Gatti ragazzi ZNSG che ogni giorno come sapete ragazzi aggiungo sempre una nuova persona che appunto usa il mio codice E tra l'altro il fortunato di oggi ragazzi che aggiungo a sto ragazzo qua che ha sciopato veramente un sacco di skin con il mio codice Grazie mille Fede Vi mandiamo la richiesta eccolo qua 3 2 1 Andata Ah ragazzi comunque io vi ricordo di usare il codice creatore ZNSG ragazzi e taggarci su Instagram Che così potrete fare il provino per il team boss E beh ragazzi se volete appunto fare il provino per il team di mio fratello boss usate il codice ZNSG E tra l'altro Lucas devi dirci qualcosa? A breve uscirà il secondo membro ragazzi Ragazzi ci sarà Che poi così suona pure male No 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 Rifai rifai tutto No si tiene tutto Si tiene tutto Il secondo giocatore Altro che membro Il secondo giocatore ragazzi Sarà veramente fortissimo Lucas Andiamo in partita ragazzi E partiamo Ok noi siamo in tantasai Tu? No 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 Siamo in due labi diverse Perfetto Allora Lucas mi raccomando gioca safe Perché la vittoria vale 5 punti Quindi mi raccomando la vittoria vale 5 punti Ogni kill vale 1 Quindi per assurdo tipo se tu vinci Arrivi secondo Con 14 kill Io vinco con 10 Ho vinto io Allora io ragazzi ho cambiato i tasti Come potete vedere ragazzi Ho cambiato il tasto del piccone L'ho messo su Q E il tasto ragazzi del cono L'ho messo su C E voi direte Vabbè ZS ma questi cambiamenti Non sono così gravi Ragazzi il piccone È la cosa più complicata in assoluto E in più ho cambiato anche il tasto ragazzi Per abbassarmi L'ho messo su shift Ragazzi Oh mio dio Quanto è complicato Allora intanto No mi sei bambiato Corri da solo Eh Lucas non cominciare con le carri No no corri da solo Te lo giuro Guardate Eh vabbè Eh vabbè Vabbè Lucas non mi interessa Basta sempre Vabbè vabbè Io ho già una kill però No no te lo giuro Te lo giuro Te lo giuro Te lo giuro Eh ragazzi Guardatevi Non ho le mani Ma in che senso Lucas Ok Mi sei sbaccato Ok Io raga sto droppando Speriamo veramente di non morire Perché ragazzi In questi tasti sono Messo male male Seconda kill Ok io ragazzi spammi il tasto per abbassare Perché almeno mi ci alleno No quella raga il pompa Quella il pompa Perché qua c'è una cassa L'altro mi sembra reale Morti tre Ma come c'hai tre kill Ragazzi guardate sta clip Oh Cazzo Sei morto Lucas No Ti prego Ti prego Facciamo pubblico No 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 Lucas Lucas ti prego Ti prego Ti prego Te ho sempre fatto tantissimi favori No 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 Puoi fare un altro game Ah sono morto Sì sì Facciamo pubblico Facciamo pubblico Allora Facciamo finta ragazzi Che la prima partita Non ci sia mai stata ragazzi Adesso Quello che succede Luca Se giochiamo in singola Quello che succede Succede ok Vai 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 Si va sempre a brughiere ragazzi Sapete che così così Oh Lucas vado anch'io a brughiere Vai Ma Anche se non ci sono mai stato Vado anch'io a brughiere Così È prima city No da me la prima è Pantano Ah Non male Ok da te è prima Sì Che poi tra l'altro Luca si è a brughiere Non la conosco Perché non ci sono mai stato Ma sì Ma troppa un po' Nel cilin C'è l'importante è che te ne fai Le chi Ma tanto te ne fai le chi Ah Ricordiamo che siamo in singola Siamo in singola Vero Vero Una kill Come una kill Sì Due kill Cambio di programma raga Cosa Niente 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 Lo vedrai nel video Quello che ho fatto Ci sta Ci sta bella play Eh raga vedete che non riesco Mi faccio fatica ad abbassarmi Ma c'è uno fermo Cosa C'era uno fermo In mezzo a brughiere Zain Lol Quanti chi l'hai Tre Oggi mi dovrò veramente concentrare un sacco Perché questi tassi sono veramente complicati Oh mio dio Cioè questi qua sono veramente i tassi più complicati di sempre Perché ragazzi shift è veramente complicato da imparare Ma io ho trovato un'unica persona decente mi sa Ma la gente non è così scarsa Oh mio dio questo è un fenomeno ti prego Mi ammazzo mi ammazzo Ok io sto nel mio bel portino No 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 Sei morto Dai zitto Sei zitto Sei zitto Via 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 Fu cozzo Fu cozzo Fu cozzo Fu cozzo Fu cozzo Dai 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 che muori Oh mio dio Oh mio dio 5 kill però Comunque se ragazzi volete giocare con me nel frattempo che io ho questi tasti veramente messi male Quindi comunque io in questo momento ragazzi ho bisogno di allenarmi Entrata ragazzi nel mio server disco Ragazzi trovate come sempre in descrizione Che almeno io gioco sempre lì con tantissima gente che c'è sempre online Quindi ragazzi mi raccomando Venite in tanti C'è un altro davanti E' tutto imparato E' uno zain 105 Oh E' t'è morto Let's go Let's go Tra l'altro ragazzi vi ricordo che c'è quella cappuccetto rossa che mi ha inseguito da prima Che sicuramente mi starà ancora cercando Quante chi l'hai te? Sei Come sei? C'è un'altra persona 105 Sono troppo forte ragazzi con lo sniper Si lancia le granatine Si riprende la mia R E' scarsissimo No è un bidone è un bidone No l'ho missato l'ho missato aspetta Preso il muro Kono Ah il combat Ok è nominato praticamente Vado vado Allora quante chi l'hai? 7 però sto faiitando zitto No 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 Amici di Zitto zitto Rumore Sei morto? Zitto Ah No 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 Ah No Si Cotto No 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 Sono morto con 8 kill Attenzione colpo di scena Colpo di scena No dai Non vale non vale Anche tu la prima partita Dai no no Dai mi hai sconcentrato Let's go Dai mi hai sconcentrato Non me ne frega nulla Non me ne frega nulla Ragazzi Quante kill Quante kill Quante kill Quante kill No 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 Tu mi regali tutto Stai zitto Stai zitto Mi regali tutto No 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 Tu mi regali tutto Stavolta non te ne regalo Come non mi dai il bando Ma mi hai sconcentrato Stai urlando Ti ho detto zitto Si ma te lucas non puoi dire zitto E' ovvio che urlo Ma c'è dentro la safe Già non si sente niente Quelli i mini E' ovvio che urlo 8 kill hai fatto giusto Si Allora io non so se provare a batterti con le kill O provare a vincere la buffa No 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 Tu non vinci Tu adesso mi batti con le kill No 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 Come dici tu Non ti prego Posso fare un altro No 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 lucas No no Il mini sconso Ma in che senso Ma almeno gioco Ma io sono andato solo con buffo Guarda Ma in cos'è Sono andato solo con buffo Non so perché In lobby Si mi hai evitato Io v'entro Tra l'altro ragazzi Immaginate una sigla tra buffo E mio fratello sul canale Cioè ragazzi Ci sarebbe Ma perché Ma vuole fare uno v1 Ma Vabbè intanto gioca Non so che dirti Tanto io sto giocando Ma vuole fare uno v1 Ma cosa sto vedendo Stavo facendo con la musica Vabbè ragazzi Nel frattempo Che io sto cercando i nemici Regà Che vedi Che vi devo dire Guardatevi lucas contro buffo Cioè Regà Io ho fatto il giro della mappa Cioè ragazzi Ho fatto il giro della Cioè io ragazzi Guardate il giro della mappa Io sono partito da qua Ho fatto tutto il giro così E ancora nulla Nulla Non c'è nessuno Ucciso maffo Oddio Regà ma come sto giocando Con questi tasti Io ragazzi Mi sa che ricambi i tasti Mi rimetto i miei Se non ho conato Rimetto i miei Cioè sta vagando contro un bibino Dai mi ha distrutto questo No mi si è frizzato il gioco No 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 Non ci credo lucas Lucas Io ho fatto il box Stato mappo Ma Raga Cioè guardate Sto muovendo il mouse Mi è cresciuto fortnite Raga non ci credo Mi è crashato il gioco Lucas Lucas Hai vinto te E nulla ragazzi Allora io Non so quello che sia successo Questo qua è un video Ovviamente molto particolare Purtroppo ha vinto lucas Quindi ragazzi Oggi pomeriggio Vedrete nelle mie storie Dove appunto Andrò a regalare il bundle Al mio fratello E quindi ragazzi Purtroppo io non potrò Shopparlo Però se qualcuno di voi Mi ha nell'alisa E mi dice ragazzi Mi regala il bundle Perché comunque Pertanto lo adoro un sacco Nulla ragazzi Noi ci vediamo sempre Qua sul canale Con un nuovo video Sempre qui Alle 12 e mezza Da Zenzia Tutto Bella